Quando nella vita A che ora è una recita oggi? Ce la fai passare in lavanderia? Le cose si complicano Probabile promozione La soluzione è Che ti prende Carlo? Cambiare strada Ma non l'aveva venduto Per un Natale Veniamo tutti a Stoccolma con te Da urlo Attenso! Valentina Lodovini Fabio De Luigi Diego Batantuono Reren Reren Ah sì Vuole chiamare qualcuno Guarda il telefono Chi? Gielfi Gielfi Dieci giorni con Babbo Natale In Prima TV Martedì in Prima Serata Grazie a tutti